Un'articolata operazione dei carabinieri contro il traffico di cocaina in provincia di Pesero Urbino ha portato all'arresto di sei giovani e al sequestro di 350 grammi di cocaina, un chilogrammo di marijuana e 150 grammi di hashish, oltre a 47 pasticche di ecstasy e circa 1650 euro in contanti di proventi da spaccio. Inoltre 11 persone sono state denunciate in stato di libertà, piccoli spacciatori di coca sparsi in vari comuni da Pesero alla Carpegna, che si rifornivano degli arrestati e 35 assuntori segnalati alla prefettura di Pesero Urbino. Probabilmente alcuni di loro avevano come mito quello del personaggio del film Scarface, Tony Montana interpretato da Al Pacino, uno spacciatore che era diventato ben presto un boss della droga, con una veloce carriera. Il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Ricciardi, questa mattina durante la conferenza stampa sui particolari dell'operazione Prius, non ha fatto mistero che durante le perquisizioni ambientali e militari si sono trovati davanti ad abitazioni che mostravano opulenza e sfarzo al limite del kitsch. In effetti il dominus di questa organizzazione era passato in breve tempo come il personaggio del film, da semplice spacciatore a fornitore, aggrossista della droga. L'operazione si è conclusa ieri mattina, sono state eseguite quattro misure cautelari a carico di pregiudicati della provincia di Pesero Urbino e ovviamente costoro sono resisi responsabili di una serie di azioni per far capire la particolare anche violenza utilizzata nei metodi del recupero del denaro e quindi hanno picchiato anche un giovane e lì poi è scartato anche un ulteriore reato per alcuni degli indagati di essorzione. Altri risultati li abbiamo ottenuti con le altre forze di polizia. In carcere sono finiti un 29enne di Fano, il grossista del rifornimento di droga in tutta la provincia pesarese già noto alla giustizia. La sua compagna coetanea, sempre di Fano, diventata nel tempo una sua preziosa collaboratrice e due collaboratori, diciamo così, un 31enne di Lucrezia e un 23enne di Fossombrone, anche loro noti alle cronache giudiziarie. Durante le 13 perquisizioni eseguite dal nucleo radiomobile diretto dal capitano Luigi Grella e dai luogotenenti Barrasso e Pannaccio, con l'ausilio di un'unità cinofila di Pesero, il Segugio Anita, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un ventenne di origini colombiane, contitolare di un bar a Fano, trovato in possesso di un chilogrammo di coca ed un suo coetaneo di Fossombrone, trovato anch'esso in possesso di diverse dosi di cocaina e marijuana. Con questa operazione i carabinieri hanno potuto smascherare così la complessa macchina criminale messa in opera da colui che poi è risultato essere il capo del sodalizio criminoso, il 29enne di Fano, con solidi legami con la criminalità albanese e calabrese stanziata nella vicina Romagna. Per gestire la rete di spaccio il capo e la sua compagna spesso facevano ricorso a estorsioni e minacce con i pesci più piccoli, insolventi. E proprio da una spedizione punitiva attuata nei confronti di uno di questi, di Carrara di Fano, insolvente di alcuni grammi di cocaina, è scattata l'operazione Prius, due guardaspalle del capo, dopo averlo incontrato in un bar di Lucrezia, dopo le minacce sono passati alle vie di fatto facendolo finire il giovane spacciatore al pronto soccorso di Fano e il dal di lì poi è stato un escalation per i carabinieri del nucleo operativo.